Un centro visitatori multimediale a Palazzo Farnese, allestito con un percorso virtuale alla scoperta di storia, cultura e spiritualità nell'Abruzzo Nord Adriatico. L'ufficio turistico di Campli si arricchisce di innovativi servizi grazie al progetto comunitario ERA, finalizzato a promuovere un nuovo modello di turismo culturale e sostenibile nel bacino Adriatico. Noi come amministrazione abbiamo subito aderito a questa bellissima iniziativa e quindi allestiremo un centro multimediale in cui i visitatori e i turisti potranno viaggiare virtualmente nei nostri tesori locali, ma non solo, potranno fare dei percorsi turistici per vedere tutti gli altri itinerari sviluppati dagli altri paesi che hanno aderito a questo progetto. Voglio ricordare che 12 sono i partner di questi progetti, tra cui alcune nazioni come il Montenegro, la Serbia e la Croazia. Ci saranno 9 centri multimediali in tutta l'Europa. Un particolare ringraziamento dal COPE Teramo nella figura del presidente Giovanni Luzzi, che appunto ha proposto questa iniziativa che noi abbiamo accolto in maniera entusiasmante. Un progetto che non interesserà solo Campli, ma anche i comuni limitrofi. Esatto. In particolare il COPE, che è partner del progetto, quindi a Teramo, ha individuato Campli come punto focale. Essendo un centro multimediale, avrà la possibilità di far fruire ai visitatori di un percorso virtuale, non solo di Campli, ma di tutti gli altri paesi, di tutti gli altri luoghi coinvolti nel progetto. Saranno 12, quindi ci saranno 12 itinerari virtuali, dove il visitatore potrà vedere non solo Campli, ma Zara, Spalato, eccetera.